Penso di avere già commentato la settimana scorsa, sottolineando sicuramente il dispiacere da parte mia, da parte dei ragazzi, da parte della Juventus, il fatto di non poter contare sui nostri tifosi. Questo è un danno sicuramente molto molto ingente e mi auguro che domani non incida da questo punto di vista. Dico anche che ci sono delle regole, bisogna rispettarle, dico anche che ci sono episodi altrettanto gravi che dovrebbero portare a uguali sanzioni e mi riferisco che quando comunque si offendono dei morti, come possono essere i morti dell'Eisel, come possono essere i morti di Superga, o quando si devasta una parte dello stadio, penso che forse è un po' più grave rispetto ad alcuni cori beceri, perché i cori sono beceri. però bisognerebbe anche iniziare a capire e ad adeguare la situazione, perché se no non è tutto uguale. E questo non è bello, perché ribadisco i cori invece li sono da condannare, però sono da condannare altrettanto cose ben più gravi, come l'offesa dei morti e quando si devastano settori degli stadi.